terza corsa al cirigliano di Aversa premio Ragusa al via le femmine di quattro anni la distanza è quella del miglio sono in nove dallo steccato Cangelosi GV Chantal RG Costa Rica Pax Clorex Carmen Fee Circe Trebi in seconda fila Cresce Leone, Carmelina Leone e Celebrità Par. Autostart che prende velocità. Può tutti a lottare per il comando poi emerge Costa Rica Pax attaccata a largo da Clorex di dentro si inserisce Cangelosi GV. L'errore di Costa Rica Pax passa Clorex su Cangelosi GV o GV 200 metri in 15 posizioni che si sono ben delineate è rimasta scoperta solo Carmen Fee. Nel frattempo Costa Rica Pax finisce tra gli strali della giuria. Primo quarto in 30 e mezzo Carmen Fee va a mettere pressione a Clorex. La appariglia completamente e Forino sembra anche disposto a darle il via libera. Dopo 600 metri in 45 e 7 passa a condurre Carmen Fee su Clorex e Cangelosi GV. Riduce il ritmo adesso Carmen Fee provoca l'avanzata del numero 9 Celebrità Par. 1 1 e 7 il primo giro. Clorex ha lasciato la corda e si è sistemata in seconda pariglia. Anche Celebrità Par si adegua ai lati di Carmen Fee. Chilometro in 1 17 e 8. Carmen Fee Celebrità Par alle prese e poi Clorex. Tre quarti di miglia in 1 32 e 7 con 14 e 8 di ultima frazione. Continua il duello. Sbaglia Carmen Fee lasciando in vantaggio Celebrità Par nei confronti di Clorex. Poi Cangelosi GV retta d'arrivo. Celebrità in vantaggio. Ci prova Clorex ma Celebrità si è distesa al meglio. Celebrità Par. Clorex e per il terzo Cangelosi GV. 9 4 1 l'arrivo probabile ed ufficioso. Media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1 16 e mezzo per la vincitrice Celebrità Par da Moses Rob e Old Kell Par. Sabato bevi l'acqua e Nuzio squeglia al training Roberto Cesaro alla proprietà Gaetano Di Nardo in Salchi. Clorex chiude al secondo posto precedendo Cangelosi GV.